io vi coto i coto i coto i coto o non due euro ma chi è che va? vieni qua, se vi vai andiamo a cuocere qualcosa hai detto che hai pinto? aspetta però aspetta forse che poi lo metto sulla youtube ditte due euro no, ma due euro mettetelo, mettetelo, mettetelo tenete un po' Pippo che la metterà su Youtube chi vuole? non è più 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 faccio vedere a Pippo come fai la lingua faccio vedere la lingua hai scornato quasi non è più non è più ma è finito come ti chiedi? ciao ciao mi saluto ma tu hai chiesto cosa devi chiedere? ciao 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 ho un gelino con la lingua ora voglio due cose dalle che ti dà con tutti i giravidi vediamo dove è questo? guarda che tu ti giravi ecco questo dà questo dà vabbè che è questo? quanto vuoi questo? nooo mamma mia ho toccato tutto 5 euro o 2 5 euro o 2 va bene? va bene? ma che è questo? che ho regalo a mio cugnato nooo si uno che è venuto funziona? è spacciato tieni qua robetto pigliata da 10 euro e fatti in Italia 5 euro tieni qua aspetta nooo non hai 5 euro? no fatti 5 euro ci sono tutte ciao ah ah caldini ah forse ma che succede? ogni volta ci vuoi ogni volta ci vuoi ogni volta ci vuoi e ci sono giapponesi ne puoi niente dove sei? e faccio vedere in cui dove sei tu? ah ecco una cosa inaugurata ecco come 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 come? come faccio commuto per te affano sarcini pelli di vino oohh quantà un ragù, un cammello cosa carmello? buona sigaretta? che non è lì doveva sempre più essere subito sempre più attimo questo sempre più mi fa formare che vuoi? allora la ratatugno aspetta